questo non ce la farebbe ciò sotto la tutta un'ora que!? Sì. 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 Sì, Andrea? Il team è davvero triste. Il nostro? Il nostro, Andrea? Il suo interesse è loro. Guarda l'emblema del nostro. Cos'è quella roba? Devi cliccarlo per vederlo. Però non capisco che cazzo sia. Cosa stai facendo? No, hey! Non dirank! Cosa stai facendo? Ah, non dirank. Lo posso buttare fuori, vuoi che lo buttare fuori? Sì, buttare fuori. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Grazie a tutti.